musica quindi io vado a mettere la frutta adesso andiamo a mettere un 200 grammi di zucchero prima di prendere un'altra apparecchiatura direttamente vado al tasto della bilancia e posso pesare tre colpi di tutto del limone pelato a vivo e in più due pesche veramente una noce pesca è una pesca abbiamo aggiunto lo zucchero e del ghiaccio quindi come ho visto abbiamo dato tre colpi di lupo ed è fatto il sorbetto musica 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 Grazie a tutti.